Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo una ricetta tipicamente americana, i pancake. Andiamo subito a vedere come si realizzano. Gli ingredienti che ci serviranno per preparare i pancake sono 250 g di farina, 2 cucchiai di zucchero, 20 g di burro, 330 ml di latte, un uovo e 2 cucchiaini di lievito per dolci. Una volta aggiunto burro fuso e latte dovrete mescolare il tutto fino ad ottenere un impasto di questa consistenza. L'impasto deve essere così, fate attenzione che non si formino dei grumi e una volta che avrete raggiunto questa consistenza potrete andarlo a cuocere. Per cuocere i pancake vi servirà una padella antiaderente come questa che andrete a preriscaldare leggermente, poi prendete l'impasto e andate ad aggiungere 2 cucchiai sulla padella antiaderente in modo da formare dei pancake. Una volta messi sulla padella antiaderente non dovrete far altro che attenderne la cottura. Lo facciamo insieme, ve ne faccio vedere uno, poi il procedimento è uguale per tutti. Fate attenzione che non si attacchi, che non si bruci, vedete che sulla padella antiaderente comunque è abbastanza semplice perché si stacca abbastanza facilmente. Aspettate un pochino che l'impasto sopra sia abbastanza solidificato e poi lo girate dall'altra parte così. A questo punto il pancake è pronto, lo potete andare a togliere dalla padella e trasferire in un piatto. Il procedimento è lo stesso per tutti i pancake, quindi fate il numero di pancake che desiderate e ci vediamo alla fine per il risultato. Questo è il risultato finale, questi sono i nostri pancake pronti, potete andare a mettere lo sciroppo d'acero se vi piace oppure condirli in qualsiasi altro modo con delle marmellate, della nutella, insomma come volete. La tradizione dice sciroppo d'acero e quindi io andrò a mettere dello sciroppo d'acero. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme. Grazie a tutti.